Ciao ragazzi, video di raccolto della gioventù, questo è del 2016-2017 per si vede, leggete, calciatori, figurine 2016-2017, come comprerò il 18 e il 19, perché mio padre non so può permettere, non c'è ancora la mamma, i panini, non ce l'ho ancora, non i panini, comunque guardate tutti i palloni, nome e cognome, chi sarà mai lui? Bene, ho tutte le coppie, guardatele, tranne queste due, questa, 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 questa e questa, prima che ho trovato questa, poi questa, poi questa, giriamo pagina, guardate, guardatela bene, la pagina, ho comprato la sedia, l'ho comprata comunque, l'ho comprata quella da gamer, l'ho comprata, si, quando arrivi dalla camera, ecco qua tutta la parte, però scusate per il zoom, comunque, ecco qua, qua non ce ne importa, questa è tutta finita, la bologna, con cimpata, caglia, 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 caglia Chievo, Verona, sono un po' trasferiti, questo video lo stiamo girando nel 2, non vedo l'ora che sia il 2018 o il 2019, lo sto girando nel 2017-2018, quasi 2018, non so quando postarlo, non so più, non so mai quando postarlo, si però comunque, grazie per i, no, in realtà, no, non so quanti ne ho, non controllo il canale da tantissimo, ho deciso di fare questo video, vabbè, questo non ci interessa, queste, se li hanno comprando, me l'hanno strappato un anno fa, me lo sono comprato un mese fa, anche due, ecco, il mio preferito, è il mio preferito, che è nella Juventus del 2016-2017, di Bala, io vorrei tanto donarlo nella Juventus, però, o donaldo o milic, però per ora sono napolitan e c'è op work, se donate almeno 20 euro, il prossimo video lo faccio guardando, è dei video sul tablet, di maiali che fanno ridere, spolliciate, iscrivetevi al canale, vedete questa scritta rossa, premete il tastino rosso, così sarete iscritti, ah, premete anche la campanella, per non perdervi altre notifiche dei miei video, e Napoli, guardate cosa c'ho, Maya Mister, ciao, ragazzi, ciao, nel prossimo video continuiamo il video, lo continuiamo l'album, ve lo giuro, ciao.